Proprio in questa stazione difensiva, anche se non mi avete attaccato, è stata la prima difesa, cioè cercando di essere equilibrati. Come ti è sembrato l'arrivo di Darek? Come si è inserito in squadra? Si è inserito bene, ho considerato che non aveva mai fatto un allenamento perché non c'era tempo, ha fatto una benessera bandita, c'era la sette minuti sempre, è bassino, tosto, addietrico, veloce, quindi darà una tosse, è così. Grazie.